È lì che prepara i suoi mostri? Sì, ma quelli che tu chiami mostri erano esseri come lui. Quella che tu chiami mostruosità è la soluzione ad uno dei più grandi problemi che l'umanità abbia mai affrontato. Una nuova razza. Sono diventati tutti i mostri. La nuova razza. 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 La nuova razza.